Il presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo dell'MPA, e suo fratello Angelo, deputato nazionale, sarebbero indagati a Catania con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La decisione, come scrive oggi il quotidiano La Repubblica, è stata presa dalla procura etnea guidata da Vincenzo D'Agata, sulla base di un corposo rapporto di 3.000 pagine confezionato dai carabinieri del ROS. Nel faldone top secret spiccherebbero le rivelazioni di un pentito e le intercettazioni telefoniche ed ambientali che documenterebbero i contatti tra il capo della mafia catanese Vincenzo Aiello e i fratelli Lombardo. Con loro sarebbero indagati anche un deputato regionale dell'Udc, Fausto Fagone, il sindaco di Palagonia, altri sindaci di comuni catanesi, numerosi amministratori comunali e provinciali, che sarebbero stati eletti grazie al massiccio appoggio ed impegno delle cosche mafiose del clan storico di Cosa Nostra, che faceva capo a Nitto Santa Paola e che ora è capitanato da Vincenzo Aiello. Quest'ultimo è stato arrestato qualche mese fa durante un summit in cui si discuteva se aprire o meno una guerra contro le bande criminali catanesi, degli appalti da gestire e di come comunicare con il presidente della regione, Raffaele Lombardo. Nelle conversazioni intercettate dai carabinieri del ROS, anche le critiche che il capo mafia faceva Raffaele Lombardo per avere voluto nella sua giunta magistrati assessori, Massimo Russo, ex magistrato antimafia, a capo dell'assessorato alla sanità, Giovanni Larda, ex assessore alla presidenza della regione, e Caterina Chinnici, figlia di Rocco Chinnici, capo dell'ufficio istruzione di Palermo, ucciso dalla mafia con un'autobomba nel 1983. È un'accusa che non sta né in cielo né in terra, non conosco Aiello e non so chi sia, posso soltanto ribadire che non ho mai fatto affari con la mafia. Lo ha affermato a Lanza il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, commentando la notizia. Il governatore ha detto di non aver avuto nessun avviso di garanzia e di avere appreso la notizia da un amico che ha letto il giornale e gli ha telefonato. Il leader dell'MPA ha annunciato che ha dirale vie legali nei confronti di chi lo accusa per difendersi da queste accuse infamanti e false. Non lancio proclami, ha aggiunto Lombardo, e chiedo giustizia agli stessi magistrati, presentando un esposto dopo aver letto di cosa mi si accusa. Sui contatti con Liga il presidente della regione siciliana ribadisce che sono stati di natura politica e di averlo incontrato così come tanti altri hanno fatto.